Un testimone è uno che ha visto, che ricorda e racconta. Un testimone della risurrezione di Cristo, ha affermato Francesco a Regina Celi in Piazza San Pietro, è qualcosa di più, ha visto ma si lascia coinvolgere, ricorda fatti di cui ha colto il senso profondo, racconta come uno che si è lasciato mettere in questione. Nessuna indifferenza, freddezza o distacco quindi, perché, ha affermato il Papa, il contenuto della testimonianza cristiana non è una teoria, una ideologia o un complesso sistema di precetti e di vieti, ma un messaggio di salvezza, anzi una persona, Cristo risorto, e ogni cristiano, ha ribadito, può diventare testimone di Gesù risorto. E la sua testimonianza è tanto più credibile quanto più traspare da un modo di vivere evangelico, gioioso, coraggioso, mite, pacifico, misericordioso. Se invece il cristiano si lascia prendere dalle comodità, dalle vanità, dall'egoismo, se diventa sordo e cieco alla domanda di risurrezione di tanti fratelli, come potrà comunicare Gesù vivo, come potrà comunicare la potenza liberatrice di Gesù vivo e la sua tenerezza infinita? Dopo la recita del Regina Celi, Papa Francesco ha ricordato l'inizio oggi a Torino dell'ostensione della Sindone. Anch'io ha ricordato mi recherò a venerarla il 21 giugno prossimo, auspicando che nel volto del lino ogni cristiano trovi il volto misericordioso di Dio.